Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video Sono Xyuder e ragazzi non potevo, non potevo non dirvelo subito Ero qua che stavo facendo dei lavori su Fortnite Porca di quella porca, a un certo punto mi appare il nuovo pop up delle notizie Porca trota raga, è stata rilasciata una notizia ufficiale E adesso ve la dico subito Come sapete ragazzi intanto non a caso siamo nella parte innevata della nuova season 7 Tutti le abbiamo notate Quando abbiamo iniziato il nostro percorso Insomma ragazzi vicino ai muri c'erano degli sci e delle tavole da surf Molto molto sospette Qualcuno ha detto Probabilmente verranno rese disponibili più avanti E ragazzi guardate un po' qua Aspetta un momento non mi ricordo mai Il tasto Sgatagan È arrivata ragazzi la notizia del driftboard Salta a bordo e fai e dai nuova linfa alla tua competizione Con questo nuovo veicolo per giocatore Singolo Non a caso ragazzi ci sono anche le piste per il driftboard E molto probabilmente se domani arriverà l'update Potremmo provarlo tutti assieme Ragazzi vi lascio con la domanda Cosa ne pensate di questo nuovo driftboard ragazzi Per me è assolutamente Asganaldana Quindi proprio una roba incredibile Vi ringrazio a tutti per averlo guardato Mi raccomando Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Noi ci vediamo in live Ciao